La notizia è di quelle che fa saltare di gioia una piccola comunità da decenni in attesa. Little Gas infatti ha annunciato l'estensione sino alle frazioni dell'area del gas metano con un investimento a suo totale carico. A ufficializzarlo è stata proprio la stessa società milanese in una nota con la quale comunica la disponibilità a realizzare l'estensione della rette mediante la posa di oltre 15 chilometri di nuove tubazioni per alimentare a gas metano la località di Palombagno. La scelta di realizzare un'opera pubblica e strategica di così notevole importanza per lo sviluppo della comunità bitontina è la degna conclusione di un lungo percorso fatto un'indagine di mercato attivata già nel 2012, una collaborazione con l'assessorato alla pianificazione strategica urbanistica e diversi incontri con il sindaco Michele Abaticchio che ringraziando il nuovo management di Little Gas spiega anche qualcosa in più e cioè che la società una volta completato l'iter autorizzativo con le necessarie rie libere comunali e valutata la risposta di Palombagno si è detta subito disponibile a valutare anche l'opportunità di proseguire nel suo impegno realizzando la porzione di rete anche a Mariotto in un secondo lotto di lavori. Nessuno quindi sarà tagliato fuori da questo investimento di notevole importanza. La speranza adesso è soltanto una, la celerità dell'intero iter procedurale e dei lavori. Grazie.